Anna Matilde, ce le fa due bistecche? No mi dispiace, ho sbagliato casa Eccola la cucina di una crudista, praticamente in tonza, sei fornelli, che spreco Lei ha dei figli? Quattro Educare i bambini così vegetariani, crudisti, non è sempre una violenza? Guarda, io ci metto sempre un'ora per preparare il pranzo o la cena dei miei figli La maggior parte delle mamme sbattono una fettina di carne o due bassoncini in padella Hanno fatto la cena Ma i suoi figli, crudisti e vegani, non l'hanno mai mandato a quel paese? No Bambini, volete dire qual è il cibo che vi piace di pieno in assoluto? Broccoletti Broccoletti così secco? Ciccina e broccoletti C'è la nutella, i news del no, i broccoletti, militarizzati sti Io avrei anche due forni addirittura Questo è un forno a vapore, praticamente, coscia a 40 gradi, a vapore E quello è crudo o cotto? È crudo, perché basta che non superi 42 gradi Quindi non mangia glutine, non mangia cotto, non mangia carne Chi tortura questa sera? Vedo una tavola Delle mie amiche onnivore Una non pizza, perché è una pizza cruda, vegana Dei non formaggi Perché non formaggi? Perché sono fatti con latte di noce Dei crackers crudisti, del pane crudista Ma lei parla con un medico ogni tanto, fa tutto il testo? No, no, io mi sono documentata, sono andata alla nutrizionisti Leggo libri, mi faccio le analisi Io sto bene Andiamo a tavola? Certo, pensa a tuo marito quanti soldi ha buttato a fare la cucina a sei fuochi Due forni in quella cucina lì Bruciati Abbiamo il macellaio del paese, che è veramente un macellaio tradizionalista Dove ti prende proprio le... Che non ti saluta più immagini? Sì, mi odia C'è un cheesecake, vegano crudista Quindi non ha farina, non ha uova, non ha burro, non ha latte E non ha cottura Aperitivo, antipasto, primo Due primi, due secondi, due dolci Quante calorie ha sta cena? Questa sera stiamo almeno sulle 1800 calorie Grazie